Vi presentiamo Ford Focus C-Max 1.6 turbodiesel 115 CV. La versione Plus comprende cerchi in lega, fari fendinebbia, autoradio CD con comandi al volante e lettore MP3, clima manuale, cambio meccanico 6 marce, antipattinamento in accelerazione e ABS. Categoria monovolume, immatricolata ad aprile del 2012, la vettura è offerta a 14.900 euro più passaggio di proprietà.